ciao a tutti ragazzi eccoci finalmente qua con un nuovissimo video scusatemi se sono stato un po assente in quest'ultimo periodo ma tra lavoro e mille cose ho avuto un po di problemi e quindi non sono riuscito a fare molti video e infatti si è visto che sono un po sparito in mezzo c'è stato anche il mio compleanno e quindi ho preso l'occasione anche per festeggiare tranquillamente senza pensare a nulla e infatti oggi sono qui per farvi il video con tutti i miei regali di compleanno con tutti i regali che ho ricevuto devo dire di essere stato veramente molto molto fortunato come sempre di aver ricevuto una marea di regali ma quest'anno in particolar modo soprattutto per un paio di cose che comunque dopo vi farò vedere il primo regalo che ho ricevuto sono come forse avrete notato le luci che ho qui intorno perché per il compleanno ho espressamente richiesto di ricevere delle softbox per fare dei video e spero che la qualità si veda un pochino perché adesso ho tre luci che mi cuociono mentre io registro i video fanno un caldo allucinante sembra veramente di essere dentro un forno però spero che la qualità sia diversa sia un po' migliorata da prima e soprattutto spero di imparare ad usarle come si deve per fare video sempre migliori per voi altri due regali che ho ricevuto ma che non ho qui da farvi vedere sono un labateste portatile e una mantellina per tagliare i capelli con sopra la faccia di Britney Spears che me li hanno regalati dei miei amici proprio perché io lavorando facendo il parrucchiere sono cose che comunque mi tornano sempre utili ma passiamo subito a tutti gli altri regali che ho qui da mostrarvi per prima cosa mi sono stati regalati questi due cili di Kylie Minogue che nella mia collezione mancavano perché ho collezionato anche i cili di Kylie Minogue questa è una raccolta di brani fino al 2004 e questo invece è un album che lei ha fatto nel 1994 che appunto nella mia collezione mancavano poi mi è stato regalato questo profumo di Britney Spears fantasy the naughty remix che nella mia collezione mancava perché sì io colleziono anche profumi di Britney un altro regalo che ho ricevuto sono queste spille molto carine e simpatiche che sono le faccine di whatsapp che in teoria potete trovare da primark sono veramente carinissime e io so che me l'hanno regalata soprattutto per la cacchina poi ho ricevuto questa carinissima candela profumata che anche solo fuori veramente molto carina e queste bellissime posate che non so se si riesce a vedere ma hanno sopra la forchetta la faccina della donna e invece sopra il coltello c'è la faccina dell'uomo e il manico è fatto a forma di gambe le gambe ovviamente da uomo su di lui e gambe da donna su di lei le avevo viste in un negozio volevo prendermele e qualcuno mi ha ascoltato e mi sono arrivato per il compleanno passiamo ora ai regali che forse mi interessano di più che sono appunto quelli più inerenti al mio canale il primo è lo specchietto di Alice in Wonderland dell'ultimo film di Alice in Wonderland questo specchietto è stupendo ovviamente preso dal Disney Store io sono uno che si guarda parecchio anche quando esce tipo nelle vetrine nel riflesso degli specchi in giro eccetera e hanno ben pensato di regalarmi uno specchietto in modo da potermi guardare quando voglio insomma il prossimo regalo non so come farò inquadrarvelo perché è veramente grande quindi probabilmente non entrerà tutto nell'inquadratura perché è lo scettro di Sailor Moon della terza serie la versione proplica quella fatta adesso in Giappone per il ventesimo anniversario di Sailor Moon ormai il ventesimo anniversario ne sono passati anche di più di vent'anni però stanno facendo questa serie di giocattoli diciamo per collezionisti e mi è stato regalato appunto questo scettro che volevo tantissimo passo ora a farvi vedere tutte le bambole che ho ricevuto che ho lasciato per ultime proprio per farvele vedere tutte insieme la prima è una Monster Eye è l'unica Monster Eye che ho ricevuto ed è Honey Swamp della serie Freak2Chic tutte le bambole della linea Freak2Chic mi piacciono da morire infatti ho comprato Gulaiopi e spero prossimamente di riuscire a comprare anche le altre lei dopo Gulaiopi era la mia preferita e sono riuscito finalmente ad averla finalmente sono anche riuscito ad avere Darling Charming che mi mancava in questa versione nella sua versione Basic infatti io di lei ho solamente la versione Dragon Games purtroppo è arrivata quella nuova quella senza tutti gli accessori però controllando bene ho visto che le manca solo il braccialetto e mi accontento è comunque bellissima e non vedo l'ora di aprirla come non vedo l'ora di aprirle tutte poi mi hanno regalato Farragut Fairy che spero si lega così la figlia della fata madrina è stracarina mi dispiace solamente che sia una di quelle nuove con la scatola nuova incollata che non si può poi richiudere e conservare senza stand senza spazzola e nient'altro praticamente ma sicuramente la vedremo meglio in una recensione che farò tutta per lei la prossima è Michelle Mermaid anche lei con la scatola un po più cheap un po più economica senza accessori eccetera ma anche lei la vedremo in una recensione tutta per lei le prossime due non sono veramente un regalo perché me le sono autoregalate ma quando le ho viste il negozio sullo scaffale non ho potuto lasciarle lì perché sono riuscito a trovare la primissima versione di due Ever After Eye Maddy che come vedete ha anche le sopracciglia sfumate proprio come la primissima versione sua e Raven anche lei con le sopracciglia leggermente sfumate proprio come facevano nella primissima versione essendo che queste bambole non si trovano praticamente più in commercio da nessun'altra parte neanche online le ho prese al volo anche perché avevano un prezzo veramente stracciato tipo 12 euro l'una l'ultima bambola che è anche l'ultimo regalo che ho ricevuto è una bambola per me molto speciale prima di tutto perché mi piace da morire e poi perché è un'esclusiva e sto parlando di Sedar Hood nella versione San Diego Comic Con 2016 non vedete praticamente niente da questa scatola perché praticamente c'è la scatola con all'interno la scatola reale della bambola qui si vede solamente un tendone con il logo Ever After I e la manina di Sedar che inizia ad aprire il tendone il resto ve lo farò vedere in una recensione solo per lei perché ci vuole assolutamente una recensione solo per questa bambola quindi ragazzi questi erano tutti i miei regali di compleanno io penso di essere stato veramente fortunatissimo come praticamente tutti gli anni devo ammetterlo sia natale che compleanno non saprei dirvi qual è il mio preferito perché in un modo o nell'altro mi piacciono veramente tutti spero che il video vi sia piaciuto spero che i miei regali vi siano piaciuti fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate qual è il vostro preferito quale non vi piace quale vorreste anche voi fatemi sapere come sempre tutto quello che volete a me sono piaciuti da morire le persone che mi stanno vicino sanno benissimo cosa mi serve o cosa mi piace infatti non c'è un regalo che non sia il teccato per me io intanto come sempre vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.